un saluto a tutti voi dal vostro paolo e da aspic italiano benvenuti ancora una volta tutti i miei amici ascoltatori benvenuti all'episodio numero 657 di sabato 8 aprile 2023 in realtà abbiamo già superato il sabato perché è mezzanotte e 35 circa è un po tardi non troppo tardi ma ci tenevo prima di andare a dormire a realizzare a registrare questo nuovo episodio un po veloce non troppo lungo solo per farvi ovviamente gli auguri di una buona pasqua e in generale augurare a tutti voi delle buone giornate in questo periodo di festa in molti paesi in molte nazioni e molti di voi festeggiano ovviamente questo periodo dell'anno quindi mi sembrava giusto non aspettare domani non aspettare il giorno di pasqua ma farvi un piccolo saluto oggi prima appunto di cominciare i miei festeggiamenti per questa pasqua insieme alla mia famiglia in realtà domani sarà una giornata con un po di fatica un po di divertimento il mio programma di allenamento per la corsa prevede una corsa lunga di 19 chilometri forse la accorcerò un po ma comunque dovrò correre almeno 16 o 17 chilometri sicuramente la accorcerò un po se il mio gluteo mi darà un po fastidio non voglio dargli troppi problemi perché ovviamente poi c'è una settimana sola prima di correre la vera mezza maratona quindi domani prima questa bella corsa lunga e poi un pranzo in famiglia come ogni anno ormai lo sapete bene è una tradizione in questi giorni come nei giorni di natale passare qualche ora con i miei per un pranzo molto buono come sempre e quindi anche passare tutto il pomeriggio insomma a chiacchierare insomma tra un piatto e un altro è sempre piacevole passare del tempo anche in famiglia probabilmente domani non ci sarà un podcast anche e questo è un altro motivo per cui oggi voglio registrare questo episodio prima di finire la giornata e quindi per tutte queste ragioni benvenuti all'episodio numero 657 ancora una volta di sabato ancora una volta perché nelle ultime settimane questo è successo spesso ma ieri come sapete sono stato impegnato di sera la mia vita sociale non è molto attiva come ricordate bene ma spero che ne nelle prossime nei prossimi mesi insomma diventi un po' più piena di eventi e ieri per fortuna c'è stato questo questa bella questo bello incontro con dei miei vecchi e cari amici ma andiamo un po con ordine quindi vediamo un po cosa è successo in questi due giorni prima di salutarvi e lasciarvi con gli auguri non voglio tenervi troppo occupati questo esercizio sarà un po più breve degli altri l'ultimo episodio è durato 34 minuti e all'inizio non pensavo di avere così tante cose da dire ma oggi sarà un po più breve sicuramente cominciamo da ieri quindi da questo venerdì che è stato in realtà abbastanza libero dalle lezioni perché ci sono state solo un paio di lezioni una al mattino e una alla sera poco prima di uscire per la mia serata in compagnia però in mezzo a questi queste due lezioni ci sono state tante piccole attività in particolare ho fatto un po' di burocrazia sapete bene che ci sono tante cose da fare telefonate documenti email messaggi insomma ieri mi sono occupato un po di queste cose soprattutto per curare alcune alcune cose di mia madre in realtà ho fatto un po di preparato un po di documenti che devo spedire in alcuni uffici ma dopo aver fatto questo lavoro sono uscito proprio per andare alla posta e per spedire queste lettere perché in questo caso c'è bisogno di in questi casi dovevo spedire due lettere non un solo caso ma un paio di casi era necessario insomma spedire un documento di carta cartaceo si dice così cartaceo e non era sufficiente mandare un email o fare un fax o cose del genere c'era la necessità di spedire con la posta con la tanto odiata posta queste questi documenti bene ho fatto una bella passeggiata anche per allenarmi un po' era la seconda della giornata ma quando sono arrivato alle poste ho trovato gli impiegati fuori che mi hanno detto niente da fare oggi siamo chiusi oggi pomeriggio siamo chiusi perché ci sono dei lavori con la società elettrica e quindi non possiamo utilizzare i nostri computer i nostri sistemi non si può fare niente neanche una raccomandata e mi hanno detto c'è anche un cartello fuori l'ingresso della posta ma forse loro non lo sanno ma io non passo ogni giorno davanti all'ufficio postale per controllare se il giorno dopo è aperto e chiuso quindi la loro osservazione in realtà un po stupida perché le persone non possono sapere queste cose anche se c'è un cartello all'ingresso delle poste io non passo tutti i miei tutto il mio giorno nell'ufficio postale e quindi non potevo sapere questa cosa ero un po infastidito il mio carattere un po da brontolone mia insomma mi ha fatto un po nervosire perché avevo fatto tanta strada e volevo spedire queste cose venerdì ma non c'è molto da fare pazienza sono ritornato a casa con la coda tra le gambe questo è un modo di dire che potete usare quando qualcosa va male quando qualcosa non va secondo i nostri piani o quando non otteniamo quello che vogliamo si dice un po così andarsene con la coda tra le gambe delusi ecco spesso si usa anche quando qualcuno cerca di farci un po del male o qualcosa di sbagliato come un bullo per esempio ma magari noi riusciamo a reagire nel modo giusto e questa persona per esempio se ne va con la coda tra le gambe delusa scontenta perché non è riuscita a fare quello che voleva insomma ci sono molte situazioni in cui si può usare in generale però andarsene con la coda tra le gambe significa andare via un po delusi o rinunciare insomma alle nostre idee con con la con la delusione di non poter fare quello che vogliamo quindi almeno ho potuto godere di una bella passeggiata sul lungomare mentre tornavo a casa e aumentavo il numero dei passi giornalieri ormai il mio orologio mi dice che devo fare circa 17 mila passi questo ovviamente perché negli ultimi tempi sono più attivo cammino e mi alleno di più e quindi il mio orologio vuole di più mi vuole far camminare ancora di più il frasidio al gluteo è sotto controllo per il momento ma non ho corso da giovedì quindi non so bene cosa succederà domani se tornerà con questa corsa lunga o no però camminare certamente mi ha fatto bene e mi fa bene a ritorno a casa intanto la giornata di venerdì non è stato il tempo non è stato perfetto ma non è stato neanche troppo male quindi passeggiare era possibile è anche piacevole certamente le temperature sono davvero ancora un po fresche per questo periodo dell'anno insomma come ho detto l'altra volta la primavera stenta ad arrivare questo lo diceva il grande battiato è una frase di una canzone la primavera no tarda ad arrivare diceva così nella canzone che si intitola povera patria beh quindi tornato a casa ho sbrigato ancora un po di cose alla scrivania qualche email qualche acquisto in vista del mio viaggio fatto un po di ricerche sui siti online per alcune cose di cui ho bisogno e poi una veloce chiacchierata con j non troppo lunga questa volta perché c'erano impegni per tutti e due e infine l'ultima lezione la seconda della giornata più o meno fino alle 7 30 poi semplicemente mi sono preparato per uscire e se sono uscito più o meno alle 8 e 30 con una passeggiata ho raggiunto questo locale molto vicino alla mia casa non troppo lontano diciamo forse 15 minuti a piedi quindi altri passi in più buoni per il mio allenamento e la temperatura era ancora più fresca la sera sono arrivato in questo posto in questo locale per primo tutti in ritardo come sempre anche se nel passato di solito io ero in ritardo a piano piano sono arrivati tutti tutti i miei amici purtroppo qualcuno ha avuto qualche imprevisto quindi alla fine eravamo sette non eravamo ne mancavano due al totale previsto ma è andato lo stesso bene abbiamo mangiato e bevuto un po troppo ci siamo seduti più o meno intorno alle nove di sera qualcuno è arrivato un po dopo e siamo rimasti seduti al tavolo beh non siamo sempre rimasti seduti i miei amici si sono alzati più di una volta perché la maggior parte di loro ancora fuma ha ancora questo vizio io e altri e altre due persone non più però ovviamente sono usciti fuori ogni tanto a fumarsi una sigaretta ma siamo rimasti in questo locale più o meno fino a luna di notte quindi è stata una bella serata abbastanza lunga abbiamo chiacchierato di tante cose abbiamo litigato di politica dopo qualche birra ovviamente ci siamo cominciati a ritrovare come vecchi tempi in cui eravamo sempre lì un po a discutere in modo molto acceso di tante cose e una parte del tavolo litigava su qualcosa una parte del tavolo litigava su qualche altra cosa ma alla fine era sempre tutto assolutamente normale e sotto controllo e ovviamente abbiamo anche ricordato un po i vecchi tempi chiaramente non ci vedevamo tutti insieme le persone che c'erano al tavolo non ci vedevamo così tutti insieme da almeno 15 anni penso ci siamo visti separatamente ma il gruppo di ieri davvero in quella quelle persone di ieri non non si vedevano e non ci vedevamo da forse 15 anni così insieme è stato quindi ovviamente un'occasione per ricordare tante cose del passato ma anche per discutere un po la vita presente quello che accade nelle nostre vite in questi giorni e in questi anni abbiamo chiacchierato di qualche amico che non è potuto venire per essere un po aggiornati e abbiamo anche ovviamente ricordato qualche amico che purtroppo ci ha lasciati un po troppo presto ce ne sono alcuni purtroppo questo è un dispiacere grande ma è stato anche piacevole ricordarli ovviamente abbiamo anche riso molto non abbiamo solo litigato è stato insomma davvero piacevole e ci siamo più volte detti di rifare questa cosa in modo più regolare ecco io ho proposto di vederci almeno una volta al mese magari in posti diversi e forse ovviamente con più persone ma ho certamente detto insomma di mettere nell'agenda questa quest'incontro per non perderci ancora di vista per non aspettare ancora occasioni meno piacevoli tra l'altro uno dei nostri amici mancava sapete perché perché lui è un po un attore semiprofessionista che doveva interpretare gesù cristo nella rappresentazione della passione perché ieri era ovviamente venerdì santo insomma i miei amici fanno lavori molto diversi qualcuno è un poliziotto qualcuno un infermiere qualcuno un idraulico qualcuno un commercialista qualcuno un attore qualcuno fa un podcast quello sono io e ancora i miei amici hanno discusso molto su di me su una questione che loro non hanno mai compreso bene fino in fondo è ritornata ancora una volta questa storia sulle mie dimissioni dalla aeronautica militare perché per più di tre anni tre anni e mezzo circa io sono stato un militare e avevo un posto sicuro nel governo ma ho deciso di lasciarlo per fare altre cose nella vita e i miei amici mi hanno sempre un po preso in giro nel senso che non capivano bene perché in italia questo è un po strano quando una persona ottiene un posto nel governo insomma un posto pubblico difficilmente lo lascia ma io ho fatto una scelta un po diversa è spesso questo è un motivo per come dire sfottermi un po sfottere qualcuno vuol dire prenderlo un po in giro o comunque stuzzicarlo insomma provocarlo un po con con domande e a volte anche un po battute ecco battute divertenti su su alcune cose della sua vita insomma quindi spesso i miei amici quando ci riuniamo così ci divertiamo se devono scherzare con me tirano fuori questa storia vabbè anche altre non solo questa ma insomma una serata bella piacevole davvero sì e certamente farò ancora il possibile per ripetere questa esperienza nelle nei prossimi mesi perché mi mancava ci mancava un incontro così la prossima volta spero che saremo di più dovremmo essere undici forse forse anche di più chi lo sa e forse lo faremo in un ristorante una cena vera perché ci siamo incontrati in questo locale che è un po più una birreria un pub insomma è una cosa più tranquilla un po più informale ma i nostri incontri sono informali però forse la prossima volta potremo fare anche una cena in un ristorante comunque la serata è finita più o meno a luna siamo tornati tutti a casa per fortuna non eravamo troppo lontani soprattutto le persone che dovevano guidare un po' ma questo locale è davvero molto vicino a tutti noi per questo motivo l'ho scelto è un locale molto vecchio nel senso che c'è da molti anni e ha il vantaggio di essere vicino alle nostre case era un buon punto per incontrarsi il giorno dopo questa mattina ho saputo poi che uno dei miei amici mentre tornava a casa per la strada ha visto un evento un po' particolare perché è andata in fiamme è andata a fuoco una delle chiese più grandi della mia zona non nella mia città nella città vicina e quindi mi hanno mandato questo video insomma della chiesa in fiamme durante la notte proprio del venerdì santo questa è stata una cosa abbastanza dura per la popolazione di quel quartiere una chiesa non vecchia ma recente non antica ma recente e le immagini di questa grande chiesa è una delle più grandi in fiamme sicuramente non era uno spettacolo bello in un periodo così importante dell'anno per la chiesa ovviamente non so bene ancora le cause non credo ci siano stati feriti o persone insomma morte a causa di questo incidente però sicuramente è una delle notizie che c'è sui giornali locali ma non ho ancora avuto il tempo di approfondire questo quindi il venerdì santo non abbiamo fatto la via crucis come in tutti in tutte le chiese d'italia ma abbiamo fatto invece una bella rimpatriata tra amici per ricordare i vecchi tempi e prepararci ai nuovi tempi la giornata di oggi invece è stata oh wow abbastanza intensa ma per altre ragioni tempo bruttissimo ho passato praticamente tutta la giornata in casa tra un temporale e un altro questa mattina c'è stato anche un problema con la mia strada perché a causa del canale delle acque piovane che scorre dietro la mia casa ancora una volta si è allagata la strada dove vivo in cui vivo c'era un piccolo fiume d'acqua che correva lungo la strada e quando ha smesso un po' di piovere quando c'è stata una pausa sono dovuto scendere a liberare questo canale per far andare via l'acqua nel modo giusto e evitare insomma che la strada di casa si allagasse ancora per fortuna la pioggia è diminuita un po' durante la giornata non è stata così forte ma ha piovuto tutto il giorno e spesso c'è stato qualche temporale fino a questa sera spero che domani ci sia il tempo giusto per la mia corsa lunga dovrebbe essere così domani mattina probabilmente ci sarà un cielo nuvoloso farà un po' fresco ma dovrei avere la possibilità di fare questa corsa di almeno un paio d'ore beh durante la giornata quindi solo lezioni ne ho fatte diverse più del solito al sabato ne ho fatte quattro una un po' più lunga con Jonathan questa mattina abbiamo ripreso la lettura di Camilleri e di Montalbano e le altre tre nel pomeriggio fino a sera in mezzo ancora un po' di acquisti di piccole cose che mi servono per il viaggio un po' di ricerca ma non molto altro però una giornata abbastanza semplice però tutto il tempo in casa sono uscito solamente per fare alcune commissioni per ritirare la columba da mangiare domani una bella columba al pistacchio sono uscito anche per comprare il cibo per i miei gatti perché ero rimasto senza e tra l'altro anche il mio piccolo Jerry oggi è restato dentro quasi tutto il giorno non è uscito molto perché pioveva e non voleva stare fuori al freddo ovviamente quindi una giornata negativissima per il tempo molto negativa la mia meteopatia si è fatta un po' sentire però alla fine insomma si avvicina finalmente la mia vacanza domani poi è un giorno di festa quindi tutto sommato ho potuto superare la giornata senza troppe difficoltà anche se era scura anche se era piovosa anche se era un po' monotona alla fine sono arrivato qui davanti al mio microfono per salutarvi prima della Pasqua e per regalarvi un altro episodio di Italiano in Podcast questo è quello che è accaduto in questi due giorni notizie non ce ne sono molte in realtà si parla solo del maltempo che ci aspettiamo per domani e per Pasquetta domani probabilmente avrò il tempo di correre ma durante la giornata ci aspettiamo comunque della pioggia e un cielo coperto sarà così in quasi tutta Italia probabilmente anche lunedì è la famosa Pasquetta non andrà molto bene per il tempo questa è una notizia ovviamente importante perché tanti italiani amano andare fare un piccolo viaggio durante questi giorni ma con questo cattivo tempo molti forse resteranno a casa e passeranno le feste con i parenti rinunceranno insomma alla gita fuori porta la gita fuori città io spero di no ma sembra proprio che non sia il tempo adatto per fare qualche piccolo viaggio un'altra notizia sola riguardo a Berlusconi vi ho lasciati con la notizia che era ricoverato con questi problemi di salute importanti ormai da tre giorni nel reparto di terapia intensiva il suo medico personale nel senso che il suo medico preferito il dottor Zangrillo dice che lo ha trovato meglio di quanto pensasse quindi sono ottimisti insomma probabilmente nei prossimi giorni potrebbe anche uscire dalla terapia intensiva comunque queste le notizie un po' semplici ovviamente in questi giorni ci sono anche molte notizie che riguardano la chiesa perché sono giorni importanti quindi ci sono cerimonie abbastanza importanti come stasera la veglia per la Pasqua c'è questo periodo di attesa fino alla mezzanotte per per celebrare una messa proprio alla mezzanotte o prima di mezzanotte e aspettare quindi l'arrivo della Pasqua non ci sono quindi altre notizie particolari io direi che possiamo chiudere qui la frase celebre di oggi è di Cicerone questo grande oratore romano questo grande politico scrittore storico insomma tutti conoscete Cicerone immagino e ho scelto questa frase proprio perché è giusta per la mia rimpatriata di ieri la frase celebre di oggi è di Cicerone ed è questa coloro che eliminano dalla vita l'amicizia eliminano il sole dal mondo evidentemente Cicerone come me dava un grande valore all'amicizia che è una cosa importante che rende più piene e un po' più piacevoli le nostre vite e che in qualche modo ci fa sentire meno soli ecco quindi l'amicizia è una cosa importante coltiviamo le nostre amicizie non le perdiamo soprattutto quelle più vecchie e importanti ma anche quelle nuove l'importante che siano importanti con questa frase io direi che possiamo andare a dormire posso andare a dormire ma prima vi faccio tanti tanti cari auguri per questi giorni di festa per la Pasqua spero che siano delle belle giornate per tutti voi vi ringrazio come sempre per il vostro affetto i vostri messaggi e il vostro aiuto e ci risentiamo presto probabilmente non domani ma forse lunedì è più probabile per il momento però direi che posso lasciarvi e non dimenticate di allenare il vostro italiano anche durante le feste grazie ancora una volta a tutti voi per seguirmi e apprezzare il mio lavoro vado a dormire quindi Paolo come sempre vi saluta e ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.